Benvenuti a Verona, qui ci troviamo al Motorbike Expo 2024, vi aspettiamo tutti, baci! Ciao ragazzi, siamo con Kimo Enna! Che moto hai? No, non ne ho ideaa. Che moto hai? Non ne ho ideaa. Ciao! Che moto sei? Sulla Vrilia! Benissimo, perfetto! Benvenuti a Verona! Benvenuti a Verona! Mi especialo sperozi! Benvenuti a Verona! Benvenuti a Verona! Benvenuti a Verona! Benvenuti a Verona! Grazie a tutti. Grazie a tutti.